Benvenute nella lettura favole persiane per bambini e adulti. Il campagnolo è il ladro. Un compagnolo andò in città alla fiera del bestiame. Spese tutti i suoi risparmi per comprare un capra e poi, senza perdere tempo, si incamminò verso casa. Il compagnolo tirava la capra per la brillina, briglia, canticchiando. Quando alle sue spalle arrivò, arrivò un ladro, che tagliò la brillia e rubò la capra. Quando si accorse che la bestia era scomparsa, il compagnolo tornò sui propri passi e cercò ovunque. Però, senza successo, suo sconsolato si rimisse in cammino verso il suo villaggio. Lungo la strada, però, vide un uomo seduto accanto a un pezzo che si lamentava a un gran voce. Allora si avvicinò allo sconosciuto per chiedergli perché fosse così disperato. Questi gli raccontò che la sua borsa, carica di monete d'oro, gli era caduta nel pozzo. Quindi, gli fece una proposta. Se sarai così coraggioso da scendere nel pozzo, al mio posto per recuperare la borsa, ti darò venti monete d'oro. Il compagnolo pensò, per quei soldi potrei comprarmi dieci capre. Accetto si svestì e scese nel pozzo dove cercò a lungo senza trovare nulla. Quindi risali, non c'era più traccia dello sconosciuto né dei suoi vestiti. Questa era la favola del campagnolo e il ladro. Buonanotte e sogni d'oro.